Buongiorno a tutti Allora, un attimo Forse visto che l'ho lasciato sul tavolo avrete capito di che gioco si fa Dead Space Ok, allora Dead Space, ve lo dico subito Fa paura Guardate già, con copertina C'è il titolo Dead Space Con sta mano insanguinata Che sarebbe di Isaac Clarke Che è il personaggio principale Cioè quello che sei tu Tu sei Isaac Clarke E questa è la sua mano Allora, qui c'è Dead Space C'è scritto Il gioco più terrificante e spettacolare dell'anno Qui c'è scritto Nessuno potrà aiutarti Perché muoiono tutti i tuoi amici, muoiono Soprattutto Poracci, quelli principali Ma io subito al secondo capito Poracci Allora, qui c'è scritto In seguito alla scoperta sul lontano pianeta di uno stregone manufatto a bordo di un'immensa nave spaziale Per la ricerca veneraria Si verifica un blackout energetico e delle comunicazioni L'ingegnere Isaac Clarke Eccolo qua Parte per una missione di riparazione Per poi scoprire una terribile verità Isaac corre totalmente isolato Intrappolato e coinvolto Suo malgrado in una disperata lotta per la sopravvivenza E poi c'è scritto Qui nessuno potrà aiutarti Poi C'è scritto Smendere necromorfi Arto per arto Coltendere in punti strategici I necromorfi sarebbero i nemici E devo uccidere Poi c'è Combattere a gravità zero Significa solo una cosa Perché il terreno può sorprenderti Da qualsiasi interazione Ok, i mostri sbuccherà per tutto Scopri la terrificante verità Di questo thriller ricco di colpi di scena Certamente in italiano Il sito è www.deadspacegame.com Di violenza O violenza Linguagio scurri Del 18P ovviamente Un giocatore E purtroppo non si potrà fare online Ma il nuovo Dead Space Dead Space 2 Quello dovrà uscire Invece ci sarà Proprio l'opzione online Prima di aprire C'è il disco Con la scritta Dead Space E c'è il libretto di istruzioni Sempre con questo braccio Mano di Isaac Sark Fatto in bianco e nero Però ti spiega tutte le armi Ti dice i negozi Punti di salvataggio Poi C'è Guarda Questi sono i neopromorfi Puntate Guarda Questo qui Che dice Bonus materiale Due esclusive Qualcosa Inghese Quindi E poi E poi Che Il film Di Dead Space Ho già scritto www.deadspacegame.com Ripeto E Niente Questa Era Unboxing Di Dead Space Io sono Jack97228 Iscrivetevi E commentate Come al solito